ciao a tutti amiche e amici di quinta dimensione letture grazie a tutti bentornati e benvenuti ai nuovi invito tutti quanti a iscriversi a questo canale di crescita spirituale e personale tarocchi oracoli e altre cose allora come vedete qua sopra ho le mie nuove tovagliette vi voglio far vedere una nuova creazione che ho fatto perché mi piacevano proprio e sono proprio contenta sempre per gli amanti insomma di questi accessori di queste cose riguardo la divinazione cosa anche per pendoli oracoli insomma queste cose qua poi vi metto il link in descrizione a chi piacessero insomma le può acquistare io le ho fatte intanto per me perché mi piaceva proprio e avevo l'esigenza proprio di farlo mi sentivo proprio di doverle fare allora questa è una delle prime tovagliette appunto per oracoli tarocchi insomma divinazioni varie lavori insomma sempre con le energie solite sono proprio fatte proprio di cotone molto morbido e sono molto scorrevoli non è il classico panno per tarocchi quelli duri no che sono a volte molto appunto duri cioè mi piaceva anche una cosa diversa ve le faccio vedere poi facciamo ovviamente la stesa di una sorpresa per te questo è il primo che è la multidimensionale l'interdimensionale si chiama è questa qua con il nome appunto del canale quinta dimensione letture questa è la prima poi vi faccio vedere l'altra le avevo già preparate le tiriamo giù così guardate quest'altra dopo ovviamente quando quando si vedranno più intere magari quando farò ogni stesa per una per una tovaglietta le metto anche più in vista questa è quell'altra da meditazione chiamata ma per dargli un titolo ovviamente sempre per questo tipo di lavori ma la cosa che è bella è ripeto non sono dure sono proprio morbide liscissime guardate no vedete come si tira su proprio si gira molto molto soffice devo dire poi c'è anche un'altra sorpresa è che in arrivo prossimamente sempre per quanto riguarda questi prodotti allora questa appunto è la seconda poi abbiamo la terza che richiama guardate fatemi sapere se vi piacciono che richiama proprio il mazzo dei messaggi divini spero che si veda scusate sì allora in questa qua appunto sfondo nero e blu scuro così sempre con la scritta del canale con questo bellissimo angelo che vi ricordate ricorda tutti è di questo mio mazzo dei messaggi divini oracolo e abbiamo l'altra ne ho fatta un'altra ancora che anche questa è una immagine appunto del mazzo sempre dei messaggi divini che è una di quella adesso se la trovo magari vi faccio anche vedere qual è che porta questa questa immagine eccola qui tra l'altro ci è venuta pure la carta questa chissà che vuol dire ti stai risvegliando stai tornando al tuo vero sé qui su questo canale normale tutto questo non vi preoccupate è tutto in regola ecco è appunto l'immagine vedete che ho usato in diverse carte di quel mazzo no di questa donna angelo con questo pianeta qua bello con questa luce che abbiamo qua nell'universo e anche questo richiamo a questo mazzo va bene poi prossimamente le metterò insomma sotto perché sono anche carine quindi mi insomma c'è anche già il nome senza che poi lo metto sempre in sovraimpressione quindi comunque fa comodo e sono morbidissime guardate vedete il dietro è bianco ovviamente ma proprio morbide si possono usare anche come bandana però insomma non mi pare il caso anche perché sono abbastanza grandi sono 22 per 22 però coprono veramente un bel tavolo anche perché con la roba stretta piccola non ci riesco proprio devo stare bella qui posizionata guardate liscissima proprio ve la farei sentire peccato che in un video non si può sentire quanto è veramente morbida allora ritornando a noi oggi facciamo una stesa perché voglio vedere una sorpresa in arrivo che c'è per chi ascolta quindi vi invito a scegliere queste stelline la prima è la rossa stellina rossa la seconda la gialla la stellina gialla la terza la stellina verde e la quarta la stellina azzurra mettiamole un po così scegli pure distinto o perché magari un colore ti piace più di un altro e andiamo a vedere che sorpresa c'è proprio con questo mazzo che è l'ultimo arrivato in casa quinta dimensione letture che i prossimi eventi oracolo allora chi fosse interessato insomma quello che dico nei video e prodotti che faccio vedere eccetera leggete la descrizione va bene perché si trova tutto oppure andate su www.quinta dimensione letture.it che è appunto il sito web ok il principale proprio di questo canale allora andiamo mettiamo l'evento per stella rossa un evento per stella rossa e facciamo così oggi che ho la tavola più libera e liscia e li prendiamo tutti da qui allora per la stella rossa per la stella gialla sposto perché sono andata un po troppo su è per la stella verde e per la stella blu azzurra blu eccoci qua allora sono proprio curiosa vediamo un po che cosa accade a quelli che hanno scelto la stesa 1 la stella rossa cosa c'è per te qua festeggiamenti qualcosa da festeggiare in qualsiasi ambito è allora qua ovviamente possiamo anche capire che vabbè il mese che registro questo questo video è un mese comunque di festeggiamenti ma non importa perché sappiamo che quando si lavora con i collettivi e con le energie generali certamente non si guarda il tempo spazio insomma va sempre bene tempo spazio energia intendo va sempre bene comunque sia quindi qualsiasi momento tu apri questo video ci sarà comunque qualcosa da festeggiare e l'ambito ci ricorda appunto l'oracolo può essere qualsiasi famiglia lavoro amore insomma quello che fa parte della tua vita in questo momento quindi questo insomma lo deve vedere ognuno in base alla sua vita e quello che sta facendo in questo momento quindi preparati perché devi festeggiare le mie stese valgono massimo 60 giorni se vogliamo proprio stirarla facciamo 90 giorni quindi insomma tre mesi massimo però ok diciamo che più o meno possiamo vedere eventualmente se i nostri tarocchi piccolini ci danno una indicazione aspettate che li prendo per bene un'indicazione in più solo per capire l'elemento vediamo un po l'elemento che contraddistingue la stella rossa se possiamo capire qual è l'ambito o non ci è dato sapere vediamo un po se prendiamo così di sorpresa oppure vediamo se ce lo vogliono dire oppure lo scoprirai da solo è da sola è per la stella rossa qual è l'ambito di questi festeggiamenti cos'è vediamo un po se ce lo dicono qua beh qui comunque qualcosa di comunicazione qui c'è venuto l'elemento spade ok quindi probabilmente potrebbe essere riguardo studi va bene o lavoro più che altro a questo punto perché comunque l'elemento spade l'elemento della comunicazione l'elemento aria no quindi comunque è l'elemento proprio che fa parte anche del quinto chakra tra l'altro quindi è proprio l'elemento della comunicazione va bene colore azzurro blu sappiamo il quinto chakra però insomma ci parla più di un ambito che è la comunicazione quindi il lavoro lavoro insomma magari qualcuno di voi lavora proprio in questo tipo di ambiente lavorativo nel senso di comunicazione magari non so o anche su internet qualcuno scrive magari no come lavoro dico poi questo vedete voi insomma comunque qualcosa che è inerente molto alla comunicazione con gli altri quindi sarà lì più o meno l'ambito del festeggiamento va bene stellina 1 io ti ringrazio ti saluto vado avanti proseguiamo con le altre stelline vediamo la 2 perché ha scelto la stellina gialla qual è l'evento in arrivo qui dicono che avrai le risposte riceverai risposte per qualcosa che hai chiesto da una persona fisica oppure anche da un essere di luce quindi qua ci sono delle risposte per te stellina gialla bellissima questa cosa perciò non ti preoccupare a breve se hai qualcosa che ti preoccupa ok hai chiesto hai chiesto qualcosa che sia a livello invisibile oppure anche a livello proprio materiale questo non importa perché qui parliamo sia dell'ambito materiale che dell'ambito di luce energetico le risposte le avrai magari c'è chi le attende da molto chi è qui ascoltare perciò ci dicono che tra poco arriverà vediamo se capiamo un po' l'ambito se può essere più sul materiale quindi diciamo di questa terra della terza dimensione se è proprio qualcosa che hai chiesto di questa vita qua magari una casa che ne so queste cose più materiali o se sono delle risposte diciamo a livello più eterico invisibile energetico per la stella gialla vediamo un po' l'elemento che ci esce che cos'è ah e qui allora secondo me di nuovo spade perciò potrebbe essere più sul filone eterico però attenzione attenzione perché comunque il livello di diciamo l'elemento spade e l'elemento aria ci indica proprio comunque la comunicazione io direi che qui siamo su un 50 e 50 siccome mi è venuto subito di dire che potrebbe essere eterico io credo che la maggior parte avranno delle risposte per via comunque invisibile sicuramente per altri dato che comunque è un collettivo perciò già si risponde da solo un interattivo collettivo è perciò alcuni avranno delle risposte a livello eterico invisibile quelli più insomma interessati a questa cosa altri saranno anche a livello fisico per comunque ci parla di comunicazione proprio no è verbale quindi comunque abbiamo un po' e un po' qua l'importante l'importante da ovunque arrivino le risposte l'importante che arrivino va bene perché noi in questa terra abbiamo bisogno di risposte perciò comunque sia le risposte ci fanno avanzare no ci danno una certa sicurezza a volte magari potrebbero non essere le risposte che noi stiamo aspettando ma non è detto che sia una sfortuna non ottenere a volte quello che si desidera a volte una grande fortuna invece poi lo si capisce nel tempo va bene quindi al di là dell'ambito di questo avrai le risposte l'importante che si proceda procedi nel tuo cammino adesso vediamo grazie mille stellina 2 vado avanti con la stellina 3 la verde che ha scelto la 3 un invito di famiglia ecco qua l'evento per te incontrerai i tuoi parenti quindi qua abbiamo un invito in arrivo entro massimo due mesi attenzione registro questo video durante un periodo festivo ma ricorda tutti che non importa questo va bene perché questo video è valido in qualsiasi momento in cui tu lo apri perciò qui non serve per questa carta per questa stellina non serve fare diciamo l'ambito perché ci parla proprio di cose materiali di cose tangibili inviti in famiglia quindi non serve comunque andare ad approfondire come ho fatto con gli altri perché si cercava di capire un po l'ambito ma li ho messi solo per sicurezza quelli diciamo i mini tarocchi ma qua sinceramente proprio non servono qui è netto chiaro chiarissimo sappiamo l'elemento sappiamo di cosa stiamo parlando questo è proprio un invito di famiglia in qualsiasi momento tu apri il video magari molti è da tanto che non vedono magari dei familiari o magari perché ci sono delle distanze quindi comunque qua c'è proprio un incontro dal momento in cui tu apri il video stellina verde vale due massimo tre mesi va bene questa questo oracolo questa risposta che ti è voluta uscire proprio oggi e ovviamente sai che non è un caso è allora stellina te grazie vado avanti vedo anche l'evento dell'altra e andiamo con la stellina l'ultima la numero 4 che ha scelto la stellina azzurra vediamo un po quale l'evento per te e beh qua c'è una risposta positiva se hai pensato a qualcosa o qualcuno la risposta è sì qua ci vedo bene di metterci anche un tarocchino piccolino vediamo un po se hai pensato a qualcosa o qualcuno la risposta è sì ma possiamo sapere anche che ambito magari qualcosa cosa si rivolge questa risposta se possiamo capire qualcosa ovviamente ah beh qua comunque è sempre a livello di comunicazione attenzione qui sempre qui abbiamo un sacco di comunicazione stavolta c'è un pure il cavallo quindi comunque sempre un elemento di comunicazione sempre un elemento va bene che ci fa proprio a livello sempre di comunicazione di risposte quindi comunque sia credo che sia l'ambito molto a sempre per quanto riguarda una propria realizzazione ok una propria o è nel lavoro o è anche a volte molti hanno a cuore anche molto degli hobby diciamola proprio cioè nel senso ok il lavoro però mi interessa anche molto che ne so sto approfondendo un argomento sto facendo un corso sto facendo una cosa una cosa che ti piace no quindi comunque la risposta intanto diciamo proprio l'oracolo che ci vuol parlare e sì intanto quindi comunque è una risposta positiva sia che qualcosa ma attenzione qua ci dice anche se qualcuno quindi qua se eventualmente stai aspettando una risposta da qualcuno che sia un ambito amoroso affettivo non so qualsiasi cosa comunque la risposta comunque sì e per quanto riguarda magari stai aspettando una risposta di lavoro stai aspettando comunque una diciamo di andare a firmare un contratto per esempio io ci vedo molto queste cose qui qua qualcuno anche magari è in una fase di vendita di contrattazione questa è la risposta quindi benissimo perché io vedo molto la comunicazione questa stesa è piena di comunicazione qui abbiamo molto oggi presente il chakra numero 5 in questa stesa un'energia particolare del chakra proprio della gola e quindi ci dice che probabilmente a livello collettivo e generale percepisco questo che ci sarà molto molto chiarimento ai prossimi due tre mesi a quelli che arrivano a questo video da quando lo aprono intendo i successivi due tre mesi probabilmente saranno molto di parlare ma che sia ma che sia quindi andiamo via cioè basta no quando c'è da parlare si comunica si dice quello che c'è da dire e via e si sta meglio va bene carissimi amici di questo canale spero vi piacciono queste tovagliette guardate quanto sono carine sono molto morbide fatemi sapere insomma e poi come avevo anticipato prima ci saranno anche altre sorprese per voi ho creato anche altre cose perché mi piaceva molto questa cosa quindi allora io vi ringrazio sempre tanto chi vuole parlare con me sa che c'è tutto nella descrizione vi ricordo anche la domanda gratuita a cui rispondo a chi farà una piccolissima donazione su coffee andate a vedere tutto quanto nel nella descrizione del video anzi ringrazio quelli che hanno fatto insomma le donazioni a cui ho risposto comunque sia alla domanda che aveva una cuore quella più importante e che dire procediamo andiamo avanti chi vuole acquistare i miei oracoli appunto anzi fatemi sapere come vi trovate tutte le persone che le hanno acquistate che altro dirvi grazie sempre di essere così affettuosi qua sul mio canale sia qui sotto nei commenti ma anche soprattutto in privato dove veramente ho il cuore proprio che si pieno di burro perché sono troppo felice delle vostre parole veramente vi ringrazio so che la mia missione sta andando veramente bene e che sta raggiungendo le persone che deve raggiungere sappiate che questo è un canale di luce questo canale non arriva come gli altri o come tanti altri ora per carità non sarà l'unico ma questo tipo di canale qua è comunque proprio un canale che ha un certo filo di collegamento soprattutto a chi deve arrivare questo è un canale a cui non importa la massa a cui non importano i numeri ma si incentiva se ci fate caso anche nella nella scheda community si incentiva sempre alla gioia alla condivisione noi siamo contenti qua quando qualcuno vince quando qualcuno è felice quando il contenuto di questo canale ha fatto il suo lavoro questo è questo canale quinta dimensione letture e anche grazie a voi ovviamente poi più cresce più siamo tutti comunque contenti perché il risveglio sapete tutti che ci troviamo in questa fase ascensionale molto importante lo sapete per chi non lo sa si guardi i vecchi video miei sono vecchi ma neanche tanto di questo canale dove si parla appunto della quinta dimensione di questa ascensione finalmente dove la luce ha già vinto ma ma da moca ha vinto anche se capisco che a livello terreno non lo si percepisce però se si sale un po di energia lo si percepisce e come quindi abbiate fede siate sempre positivi che i periodi tristi e bui stanno per finire perché la luce ha vinto guardate la copertina del canale da sempre qual è di questo canale quindi vi abbraccio forte vi mando tanta luce continuate a seguirmi iscrivetevi chi non si è iscritto vi aspetto presto qua su quinta dimensione letture per un nuovo interattivo con me un abbraccio grande ciao a tutti